subito col presentarvi uno dei grandi protagonisti di Premiatissima e cioè Gigi Sabani vogliamo fargli un bel applauso al Gigi ciao Gigi, eccolo qua allora, naturalmente sarai contento di com'è andato il tuo spettacolo il tuo, il vostro spettacolo, tu sei uno dei tanti protagonisti abbiamo lavorato molto bene e il pubblico ci ha premiato i dati che do io sono veri sono stati tanti i milioni delle spettatori che ci hanno seguito grazie, grazie, grazie a tutti ecco, io penso però che saranno ancora di più nelle prossime puntate sicuramente perché è partito molto bene però forse molti non si sono ancora resi conto che Canale 5 fa delle produzioni eccezionali anche nel campo dello spettacolo del varietà soprattutto valendosi anche di grossi registi perché Gino Landi è un fior di regista è anche un grande coreografo come sapete e quindi ha preparato dei balletti eccezionali quindi se non avete visto premiatissima sabato dovete senz'altro seguire questa trasmissione perché è veramente piena di tanti imprevisti e poi soprattutto c'è un grosso imprevisto pensate che quest'anno Gigi Sabani canta ecco, e questa è veramente una grossa novità ho trovato una voce ne ho cercate in mezzo alle mie e poi ne ho trovata una pare che sia la mia senti, volevo farti una domanda Mike perché tu non hai mai provato a cantare una canzone? io? no, è meglio che non canti perché io sono molto stonato guarda, ti dirò una cosa Mike io volevo dirti una cosa molto importante guarda, c'è stata una canzone l'anno scorso che era Carletto, te la ricordi? sì, come no? certo, me la ricordo e come perché avrei voluto cantarla io e pensa come l'avresti? l'avresti? è giusto l'avresti? sì, sì l'avresti o l'avrebbi? come si dice? come l'avresti cantata? l'avresti guarda, l'avresti fatta così? non so Carletto non tirare la coda al gatto non dire più alla mamma che è ingrassata Carletto di qua, Carletto di là ecco, sfortunatamente io non l'ho voluta fare questa canzone grosso successo questo avvantaggio naturalmente avvantaggio di Corrado che ha fatto veramente un grande successo ed è entrato nella Hit Parade ma non sono io che devo cantare questa sera è lui invece perché vi dicevo che c'è questa grande sorpresa di questo Gigi Sabani che canta veramente bene e gli hanno affidato quest'anno la sigla iniziale di Premiatissima ora, l'hanno trasmessa una sola volta questa sigla e noi questa sera l'abbiamo presa di punto in bianco da Premiatissima e la vogliamo trasmettere per voi perché vi assicuro che questa sigla a parte il fatto della bravura sua che la canta molto bene è piena di vita piena di allegria è una sigla nuova direi perché addirittura ci sono dei canti tirolesi dentro tutto 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 yodeling ecco, è una canzone che sicuramente vi rimarrà nell'orecchio come è rimasta nell'orecchio di tutti la sigla di chiusura del mio Superflash di quest'anno Superflask Superflask, ecco che tu mi hai sempre chiamato Superflask sai com'è il titolo di questa canzone? come è il titolo? a me mi torna in mente una canzone secondo me c'è un errore su questo titolo penso di sì a me mi torna cadeo? a me mi torna dov'è l'errore? forse è la canzone quello è l'errore vabbè comunque scherziamo un po' allora io direi di mettere in onda questa canzone così vedrete che è così bella che sicuramente vorrete risentirla di nuovo sabato prossimo quando andrà in onda premiatissima alle 20.25 quindi preghiamo Mario Bianchi di trasmettere la sigla di premiatissima interpretata da Gigi Sabani via la regia a chi non torna in mente una canzone di adesso pure tanto tempo fa che gli ricorda qualche situazione a un momento di felicità chi la canta in canottiera sul balcone e chi invece la domenica in città a me mi torna in mente una canzone e mi cantava sempre mio papà diceva se qualcosa non va bene canta un poco che ti passerà le parole me ne sono dimenticate ma la musica ricordo fa così ma che canzone cantate insieme a me ma che canzone cantate insieme a me a me mi torna in mente una canzone che mi cantava sempre mio papà e adesso che sono qui in televisione non c'è niente che mi fermerà voglio farvi andare tutti nel pallone ma dell'arri come la pubblicità ma che canzone cantate insieme a me ma che canzone cantate insieme a me a me mi torna in mente una canzone che mi cantava sempre mio papà e adesso che sono qui in televisione non c'è niente che mi fermerà voglio farvi andare tutti nel pallone martellarvi come la pubblicità ma che canzone cantate insieme a me ma che canzone cantate insieme a me cantate insieme a me veramente molto bella questa canzone molto orecchiavile e sicuramente farà molto successo ed entrerà sicuramente nella hit party